Ovviamente Rinnegan dopo il baule leggendario ha vinto il baule magico! Vuoi, 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 vuoi non avere il baule magico? Posso o non piacere? Posso o non piacere questa cosa? Anche, anche, io devo dirti una cosa, fra due ore mi scadis trova qua, fra te sette ore. Riesci a fare duemila monete? Ascolta riesco a fare duemila monete? Non lo so. Proviamo. Forse col baule magico? E tanto apri quel che lui trova di solito la leggendaria. 47 monete. Allora, 47, capanna goblin, goblin, baule magico, vai, 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 quante monete? 400, pochissime, pochissime, orla di sgherry, puoi potenziarla e non usi, 5 di quelle, cannoni! Goblin non li usi, ma quanto a parche prossimo, ma questi, guarda che questi non ponono i coglioni. Qual è il leggendario secondo te potrei cercare? Ah, non lo so, un boscaiolo, un boscaiolo, razzo, oppure poi viene fuori in un'epica il draghetto. Eh, lo stesso non sono uscito da simulare quei duemila di oro che mi servono. Comunque ragazzi, oh, se questo è duemila trofei, stiamo scherzando, vai in arena 7. Aspetta, ah no, devo tornare indietro allora. Comunque il mio record dov'è? Eh, sul tuo profilo. Ecco qua, il mio record comunque. E' 2165, vabbè, adesso voglio, voglio che lo superi. Ma non c'ho voglia. Voglio che lo superi, è quattro. A me serve la scintilla, la scintilla si trova qui. Contro un livello 9. La scintilla si trova qua. Contro un livello 9. Sì, io ho bisogno della scintilla, la scintilla la trovo solo qua. Quindi cosa fai adesso? Devo perdere. No, vinci. Vinci, voglio che vi... Oh, attenzione. Boscaiolo. No, guarda che forte. Rotti in culo che bastardo. E' una bellissima leggendaria, mi piace un sacco perché è velocissima a colpire, ha tanto danno e in più lascia la furia a tutte le tue truppe quando muore. È assurdo. Qual è l'altro suo superpotere? Eh, vabbè, ha capito, ti tratta la palla di fuoco. Sì, sì, sì. Cos'è messo? Ah, principessa che colpisce da lontano. Oh, Maga mi piace. Qualizione. Ah, 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 ti ha zappato. Draghetto infernale contro Draghetto infernale contro Draghetto infernale. E' unica. E' tra il leggendario anche lui, eh. Ah, è vero. Ah, minatore. Boscaiolo. E dragha infernale. E dragha infernale. Attenzione, però il tuo dragha infernale, là, si comincia a colpire l'attore, è fatta, eh. Dai, 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 muori, 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 torre, peccato. Eh, vabbè, hai tolto metà vita la torre, eh. Eh, vabbè, potrà farlo anche lui. Attenzione, oh, no, 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 cosa fai questo? Eh, mi sarà questo. Oh, livello 4 sto golem. È grosso quel golem. È bello cicciono. È rotto in culo, è che quello li fa, quel bastardo, adesso. Eh? Ralleni, c'è, mi... Eh, lo so che esplode, vabbè, 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 che a te frega. Guarda che a te frega. No, ho sbagliato. Eh, peccato, peccato, eh, buon, vabbè, dai, la principessa ci sta, adesso. Sì. Principessa che ti uccide i goblin, più che altro, no? Sì, è quello che rompe le pavole. Eh, il minatore che rompe il stress per i coglioni. Guarda quanto veloce colpisce, dai! Dai, principessa, è illegale. Minatore, giusto, giusto. Eh, però adesso, vedi, ha la furia, la torre, eh, lui. Vabbè, io ce l'ho principessa. Oh, 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 anche lui ha messo il minatore? Sì, perfetto. No, perché sei girata, quell'idiota? Perché non importa. Eh, però il tuo minatore... Non è un problema. Non è un problema. Sezione morta. Non è un problema. Beh, hai visto, tu hai quattro leggendarli e una tre sta perdendo. Ecco. Giustamente. Vai, dai, adesso muore quella torre, eh. Una e due colpi, perfetto. Oh, perché fa il drago infernale contro il drago infernale? Il drago infernale... Ma aspetta che ti chiedo, ma lui ha il minatore a livello due? Io ho il mago a livello due. Il mago di ghiaccio, giusto a livello due. Il mago comune a livello due. Sì, giusto, ho sbagliato. Mi ha buttato attacco di là. Mi ha attacco di cose. Esatto, vedi? Se deve difendere di là, esatto, vedi? Oh, principessa e gigante. Ancora. Perché fa la di poco così a tagli? Si, però... Ok, morta. Se muoiono gli sgarri, guarda se muoiono gli sgarri. Perfetto. Oh, che fallo di quello... Oh, veramente una roppi col di oro. Morto. Oh, attenzione, attenzione al draghetto. Furiezzato lui. No, ha furiezzato... Ah, sì, è vero? Ha furiezzato lui. Metti il minatore draghetto, come fai sempre, che mi piace un sacco quella roba. Il draghetto... Il minatore. Ancora. Ancora quel minatore lì. Guarda, guarda, vediamo di là, vediamo di là la torre, che adesso la torre è presa male a colpire il draghetto. Vediamo, vediamo. Dai, ha iniziato a colpire. Ok, il draghetto colpisce la torre, va bene. Dai, che va, dai, che va giù. Boom! È la torre di vita! No! Potrei fare tre coloni. Che palle! Potrei fare tre coloni. Eh, vabbè, non è che... Più tre... Posso fare una partita con le quattro leggendari, grazie? Faccio una partita con le quattro leggendari. Scusate ragazzi, devo stare così perché abbiamo l'iPad in carica, visto che i miei genitori hanno giocato fino a prima, a pooling. Allora... Scusate, ho tirato vicino a cosa, metti bene. Facciamo così, allora, facciamo così. Draghetto infernale. Usate anche la deline. Draghetto infernale. Non ancora. Non ancora. Ora, ora, ora. È troppo tardi, trovo presto. Come è troppo presto? Adesso comincia col piraminatore. Vedi? E se ci metti la flora su? Cazzo, fermo, fermo. Aspetta, aspetta, dobbiamo tirare le frenze con lo stronzo. Puro sul draghetto. Eh, però non riesco a fargli un cazzo ancora adesso. Parliamo. Beh, insomma. Parliamo. Mezza vita glielo tolta, quasi, quasi mezza vita. Mago di Ghiacen. Oh, vedo che usa l'estrattore. Golem. Come Golem? Tu devi mettere il Golem. Perché il Golem? Di solito quando vedo quegli estrattori o è il mastino o è il Golem. Quello sono io, quello sono io. Balla di fuoco per fuori sul mago. Sì, un attimo. Estrattore. Così, perfetto. Adesso quel mago muore. Uh, che stress. Guarda il mago di Ghiaccio. Bam. Vai, è gigante ancora. Ah, peccato. Vabbè. Principessa. Principessa ci stacca. Guardate anche qui dietro. Tac. Ma che robe ragazzi. Vedi, non esattarti troppo. No, ma adesso la lascio lì perché nessuno la colpisce. Almeno che lino metà truppe. Guarda. Sicuramente la truppa. Eh, vabbè. No, niente. Nessun colpetto. Solo un colpetto. Eh, frecce. Molto. Perfetto. Adesso di là per fermarlo. Il draghetto infernale che uccide i tank. Giusto. Eh, va bene una per uccidere. Giuro. Eh, buon cazzo. Grazie al cazzo. Guarda. Eh, adesso muore bruttamente proprio. È come una Torno Inferno. È una Torno Inferno. È una Torno Inferno mobile. Guarda. Eh, minatore. Eh, li ho messo di là e ho messo il minatore di qua. Eccolo che arriva il minatore. Atta! 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 Con quella pala orribile lì. Perfetto, perfetto. Adesso manco di ghiaccio così. Difendi qua. Bravo, bravo. Vedo che capite come funziona. Bello, bello il deck leggendario. Bello, bello. Ma dov'è una quinta leggendaria. Eh, ma io vorrei fare road to, sai, otto leggendari. Road to otto leggendari. Se continui così, non ci manca neanche molto. Beh, alla fine... Cioè, dopo... Aspetta, scontare se colpirgli l'estrattore da qua. Sì, da qua, sì. Giusto per rompere l'estrattore. Oh, perfetto. Preparare la trece, comunque. Sì, perfetto. Eh, vabbè, vabbè, vabbè. Ma non importa. Attanto, quell'estrattore è quasi morto. Perfetto. Adesso mettiamo il gigante. Attacchiamo noi adesso un po'. Oh, è il drago infernale. Il drago infernale. Sì. Aspetta un attimo però. Lo metto un po' in fondo. Così. E qua li butto la palla di fuoco lì. Giucido anche un po' il draghetto, spero. Sì. Ok. Qua principessa. Ok. Sì, sì, no. Ci sta, ci sta. Così. C'è così. Adesso... Zam. Perfetto. Mago di ghiaccio. Guarda il draghetto che ha usato il mago. Guarda che bello. Il gigante. Hai visto? Oh, cazzo. Adesso. Butto di là, butto di là così. Adesso senti là. Minatore anche. Perfetto. E principessa. Qua in fondo. Ottimo. Così tutti si sono presi malissimo lì. A colpire male proprio. Qualunque cosa. Qualunque cosa. Ok. Perfetto. E... Zam. Palla di fuoco. Due stelle per me. Vai. Semplici, semplici. Così. Guarda il livello 7. Tu giocando con un livello 9. Però è stato abbastanza semplice. Ma sì. Lascia che giochi. Lasciamolo giocare. Lasciamolo giocare. Trovo il Fever che tanto sei con il tuo deck. Il deck della popoliscia. Il Paolo d'Oro. Ah, è vero. E comunque hai. Vino Genestrasse Trofea. Se vi è piaciuto lasciate tante belle impianze. Continuate a iscrivervi al nostro canale. Ciao a tutti. E al prossimo video.